E' arrivato anche coach Vincenzo Mastrangelo, allora partiamo, come si fa da 1-0-3 a andare a vincere nello stesso posto? Questa vittoria importante della tua Kema Salami perché vuol dire secondo posto in classifica? Ma nel presentare la partita già avevo detto che non è che avessimo a perdere 3-0, sicuramente c'è qualcosa che non è andato. Ma che quel 3-0 fosse stato frutto di tante situazioni che non sono girate a nostro favore e che non siamo stati bravi noi a far girare a nostro favore, ce ne siamo accorti subito, già appena è finita la partita. Le facce dopo la partita della Coppa erano molto chiare, erano chiare a tutti, di gente che voleva far bene, che non c'era riuscita, che era molto delusa, tra virgolette molto incazzata con se stesso, ognuno con se stesso. E quindi abbiamo affrontato i 10 giorni che ci separavano dal ritorno, perché da un lato è stato molto bene affrontarli dopo pochi giorni. Questo ci servirà quando inizieremo, se saremo nelle prime 8 a giocare ai nostri play-off, perché lì poi si gioca una dopo l'altra sempre con la stessa nei turni. Quindi abbiamo fatto tesoro di tante cose, ci siamo guardati, abbiamo capito dove potevamo e dovevamo fare di più. Alla prossima